Anticipazione Una Vita, lunedì 27 aprile 2020. Lolita, Fabiana e Casidda non si fidano più di Genoveva, la moglie di Samuel Aldai, dopo aver letto sul giornale una notizia poco felice sul suo conto. Il gioielliere intanto cerca di tirare sul morale alla consorte, che è molto triste. Successivamente il giovane fa una scoperta su Susanna, che non gli piace affatto, e l'affronta duramente. Genoveva ha uno scontro anche con Ursula, dopo aver prelevato Matteo da casa Toralba, per averlo portato nel suo appartamento. Grazie a tutti.